Eh, fa troppo male che non ce l'hai niente di fumare. Eh, non lo so, ho tutto da una sigaretta, che fai? Eh? Eh, niente. Eh? Ah, qua si. Sì, niente, non puoi stare senza sigaretta. Questo si, hai ragione. Se siamo drogati di fumare non possiamo stare. Sì, questo si. Sono le pezziere che sai che non gelare. Se ci sono, vabbè, portateci. Eh, ma perché non compri troppo sigaretti? Perché sempre sei senza? Eh, ieri l'ho comprata io. Un pacco? Eh. Eh, perché non compri di più? Eh, no, allora faccio. Non mangiare le ungue. No, la carne, la verdicina mangio, non le ungue. Non mangiare. Mangi la pasta ma né le ungue. Ah, l'ho mangiato oggi. Eh, lo so. Tre volte al giorno. No. Ma che? Una pasta? No, una volta. No, una volta. Non è vero. Troppo una volta. No, no.